Nel corso del 2013 in provincia di Piacenza sono stati dichiarati 50 fallimenti, 7 al giorno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto del piacentino l'8,1%, era il 7,4% nel 2012. E ancora, se per quanto riguarda l'Emilia-Romagna il bilancio consuntivo 2013 ha risultato migliore rispetto a quello dell'anno precedente, il quadro congiunturale piacentino evidenzia elementi di maggiore criticità. Sono i dati inquietanti tracciati dalla rivista Piacenza Economia Lavoro e Società, che ha traslocato nella grande piazza virtuale di Internet. Da rivista semestrale cartacea, spedita unicamente agli addetti ai lavori, è diventata una web review aperta ai contributi in tempo reale di tutti. Dopo 12 anni di pubblicazioni che hanno messo ai raggi X il tessuto sociale piacentino con 24 edizioni, la rivista nata dalla stretta di mano tra provincia di Piacenza, Camera di Commercio e Università Cattolica, è dovuta diventare qualcosa di più, uno spazio interattivo, perché costante e continuo è il bisogno dei cittadini e delle amministrazioni di conoscere lo stato di salute del territorio.